Si attende il mese di settembre per due convenzioni attese da tempo dalla città di Fano, quella per realizzare le opere compensative della terza corsia e quella per l'accessione dell'area dell'aeroporto al comune. Riguardo l'autostrada A14 è stato presentato un ricorso al Tar del Lazio, visto il parere negativo del Ministero dell'Ambiente sul casello di Fenile. Riguardo alla zona dell'aeroporto invece la Giunta ha deliberato martedì scorso un atto trasmesso in Consiglio Comunale con il quale è stato concluso il percorso che fa capo all'ente locale e quindi ora spetterà al demanio statale proseguire per il passaggio gratuito della proprietà dell'intera area. Quindi a quel punto potremo anche entrare in una fase operativa per quanto riguarda anche la realizzazione del progetto del parco urbano recuperando quello che era stato il lavoro dei cittadini dell'associazione negli anni precedenti con il cosiddetto progetto salbitano e metteremo in campo già dai prossimi mesi una serie di interventi importanti, penso alla cosiddetta strada mazzaparco. Su questo avete messo a bilancio già delle risorse? Assolutamente sì, abbiamo previsto alcune centinaia di migliaia di euro perché realisticamente sappiamo che un intervento per la realizzazione di un parco urbano non si può fare in pochi mesi, dovrà essere realizzato per stralci nel corso degli anni però ovviamente non vogliamo perdere tempo, vogliamo iniziare subito. Quindi già 2015, 2016, 2017 abbiamo previsto delle risorse proprio perché pensiamo che una volta acquisita la proprietà dell'area bisogna subito dare alla città il segno del cambiamento facendo già dei primi interventi che possano dare l'avvio alla realizzazione del parco urbano.